Scusi, Maga Eteria, veramente io saluto qua perché ho bisogno del suo aiuto, lo vedi che sta facendo tutte le... Hai fatto molto bene a venire qui. Maga, non ti parlo a me. Io veramente volevo chiedere una cosa. Vuoi che ti predica il futuro? No, veramente il futuro non mi interessa, Maga, mi interessa il passato, capito? E come mai? E come mai? Perché praticamente ho dimenticato dove ho parcheggiato la mia auto e dove la provo più, capito? Scusi, questo è molto, molto male. E come la moglie, lo dici? Va bene, non sto vedendo di trovare qualche parte della macchina. Vediamo, trovi la macchina. Vediamo. Eccola, eccola. La vedo, la vedo, la vedo, il carruatre si se la sta portando via. Eccola, eccola. L'occhio, l'occhio, l'occhio.